Tutto bene, come stai? Tutto bene? Oh, il Capri, ciao! Vivo, ciao! Ciao, bellissima, ciao! Come stai? Tutto bene, ma come è stata? Tutto bene, grazie, come stavi facendo? Ma niente, mi è appena arrivato su Facebook l'evento del film su Nino Bagliere. Ma che non lo sa? Ma come, non lo sapevi? No, no, no. Sì, poi vedremo il film nella chiesa madre di San Pietro, il giorno 27 febbraio, giusto? Alle ore 20. Alle ore 20? Ci sarò del sicuro. Ne aspettiamo per ulteriori informazioni www.linobanieri.it